Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi Fulminia. Oggi andiamo a dare un occhio sul paniere principale del listino tedesco, il DAX. Questi sono i 30 titoli che compongono il paniere tedesco. Andiamo a vedere il miglior titolo della settimana, Siemens, con un bel più 10,87. Il peggior titolo della settimana, Deutsche Bank, meno 7,55. Andiamoli a vedere questi due titoli, partiamo dal migliore, Siemens, questo è il grafico giornaliero, lo abbiamo aperto dai minimi della pandemia, come vedete Siemens è andato dai 60 Euro dello scorso marzo, è arrivato adesso a 132,8, ricordiamo un massimo storico del 2017 in area 135. Quindi la settimana è stata positiva per Siemens, che come vedete era già in un bel trend al rialzo. Settimana vi sono state alcune notizie positive per il titolo, ad esempio negli Emirati Arabi Siemens si è impegnata a sviluppare idrogeno verde, ha tirato fuori anche delle sonde radar in questa settimana, delle nuove centraline, ma la notizia che ha creato l'Exploi di venerdì è stata la notizia di un contratto per la revisione di 40 treni da parte dell'ente delle ferrovie tedesche, questa è stata la notizia che ha creato il boom, comunque è stata tutta una settimana ottima per il titolo, a questo punto abbiamo come detto una resistenza storica a 135, possiamo vedere eccola qui, del 2017, quindi a questo punto è probabile che sarà opportuno aspettare la chiusura del gap e vedere poi sulla tenuta di questo livello, come vedete dei 120 e un'eventuale ripartenza, può essere pure che sull'onda della candela di venerdì prosegua e vada a toccare i nuovi massimi storici e a quel punto però diventa una decisione difficile entrare perché è un rischio elevato contro un rendimento che a questo punto non sappiamo dove andare a posizionare uno stop. Andiamo a vedere il peggior titolo della settimana, abbiamo detto Deutsche Bank, anche questo prendiamo il minimo di marzo, come vedete era 4,5 Euro, era arrivato la settimana scorsa a toccare 10 Euro, quindi anche per il colosso mondiale, il colosso bancario tedesco un ottimo recupero, questa settimana però come vedete nonostante il trend rialzista dell'ultimo periodo ha disegnato da martedì solo candele rosse, addirittura quella di venerdì come vedete con apertura in gap down e chiusura praticamente sui minimi di seduta, quindi molta debolezza per l'istituto tedesco, è probabile che vada al test degli 8,75 e vedremo se li terrà, su tenuta, quindi ipotizzando un movimento analogo a quello già accaduto a dicembre, quindi su tenuta potrebbe poi eventualmente ripartire, oppure questa volta non terrà e andrà a testare direttamente gli 8,50 che a suo tempo pure come vedete è stato un livello importante e vedremo come andrà a reagire. Non consigliamo un ingresso nell'immediato in quanto il coltello lo lasciamo cadere e lo raccoglieremo solo dopo che sarà caduto. Vi ricordiamo il nostro canale free, mactrader.it, questo 2021 ci vede entrare nel nostro quinto anno di attività, abbiamo iniziato nel 2016 creando appunto questo primo canale d'accesso gratuito nel quale volevamo dare le nostre informazioni a chi si avvicinava al mondo della borsa e della finanza, il progetto mactrader si è continuamente ingrandito, ma rimaniamo sempre pronti e disponibili ad accogliere i nuovi appassionati dei mercati finanziari sul nostro canale mactrader.it, pertanto vi aspettiamo per cominciare il vostro viaggio nei mercati finanziari assieme a noi. Con questo è tutto e vi auguriamo una buona giornata.